ciao ragazzi ciao ben trovati buongiorno oggi stavamo pensando appunto siamo nel 2018 sono successe una marea di cose ma in particolar modo pensavamo a come negli anni le donne ad esempio si sono emancipate abbiamo raggiunto la parità dei sessi eppure su alcuni temi mi sembra che ci siano ancora dei tabù parecchi io poi che ho come dire ho superato i 50 anni sento raccontare storie pazzesche sia da uomini che da donne insomma sembra che la libertà quella vera cioè l'essere se stessi essere naturali all'interno dei rapporti sia una cosa che proprio è come dire è relegata a poche persone sembra che la cultura che abbiamo i punti di vista le convinzioni che ci hanno trasmesso attraverso la storia delle cose ci impedisca di vivere la passione non è così per la musica forse la musica è l'unico vero elemento che sembrerebbe libero di essere fruito per il resto qualche dubbio ce l'abbiamo quindi vi diamo appuntamento il 28 se volete giocare un pochino con noi vedremo alcune cose in particolare faremo anche del laboratorio parleremo di sessualità di rapporto di coppia insomma ci dobbiamo divertire sarà veramente una cosa molto molto interessante si ecco non fraintendete sul laboratorio insomma sarà una cosa ovviamente fruibile da tutti e vi aspettiamo e vi ricordiamo ovviamente di contattarci se avete delle curiosità ma soprattutto che rendersi conto è una scelta ciao ciao ciao